Sì. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, sono qui con Mr. Phillips, Mr. Ged e amici a fare una piccola pausa tra una registrazione e l'altra. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sulle novità di Ritmi Batteria. Colgo l'occasione per salutare il mio cameraman preferito, Leo, il piccolo grande Leo, che mi dà sempre un grande mano, e niente, vi aspetto ai prossimi appuntamenti, mi raccomando, lasciate i vostri like e anche i vostri commenti, sono qui a vostra disposizione. Da Ritmi Batteria per oggi è tutto, alla prossima! Buon groove! Scrivete! Scrivete, mi raccomando, scrivete anche qualche commento, un suggerimento di Leo, grande Leo, sei il numero uno. Ciao! Scrivete!